Ci troviamo nel cuore della Franciacorta, la regione dove il metodo classico raggiunge la sua espressione più elevata in Italia e dove la Marchesi Antinori ha deciso di intraprendere questa avventura a partire dal 1999. I nostri vigneti si estendono su una superficie di 60 ettari, sono coltivati con i vitigni tipici della Franciacorta che sono lo chardonnay, il pinot nero e il pinot bianco. Il metodo classico per la produzione di questi prodotti Franciacorta prevede una seconda fermentazione in bottiglia e successivamente questi vini resteranno in affinamento sui lieviti per anni nelle nostre cantine. Grazie a tutti! Grazie a tutti!